A breve ci sarà la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello che nei giorni scorsi ha confermato la condanna del primo grado a due anni di reclusione per le tre maestre accusate di aver maltrattato i bambini dell'asilo Cippe Cioppa a Pettino. Sono Mari Carapele, 38 anni, di Alatri, Giuliana Colaiuda, 35 anni, di Barano di Tornimparte e Costantina Bucci, aquilana di 35 anni, furono sospese, come si ricorderà, dal servizio a seguito della denuncia di due tirocinanti che avevano confermato i maltrattamenti dei bimbi, a loro dire imboccati per forza, strattonati, rimproverati duramente. A suffragare le testimonianze ci sarebbero state anche le immagini delle telecamere sistemate dagli agenti della squadra mobile della Questura. Allora a condurre le indagini fu Maurilio Grasso, il dirigente della squadra mobile, ma gli avvocati difensori Stefano Rossi, Manuela Paone e Ferdinando Paone sostengono che non si può parlare di maltrattamenti. Dal video non emergerebbero infatti violenze fisiche o brutalità varie, ha spiegato l'avvocato Stefano Rossi in alcuni casi. Si tratta di rimproveri considerati eccessivi dall'accusa. Ovviamente le assistite non la stanno vivendo bene, hanno detto i legali. Si valuterà il ricorso in Cassazione dopo la pubblicazione della sentenza.